ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono raffaele ed oggi sono tornati sulle teorie di no stavo scusando sono tornati su case animatronics ovviamente dopo sinister tour more un gioco horror cos'altro su fare un altro gioco horror case animatronics beh devo farlo perchè io non lo faccio da tre settimane c'è una telecamera all'uno di notte poi nello scorso episodio abbiamo avuto jamsker su jamsker ciao ragazzi vi spiegate una roba come è possibile che nella vita reale il tablet si scarica dopo tre due ore non lo so invece in questo gioco i tablet si scarica dopo in cinque secondi cioè minuti ma grazie a grazie mille giugno del 1987 il morso dell'87 ok viva che succede perché ti sei bloccata che succede guarda la ok eccolo è lì qui non so se andare oppure non andare ok e che c'ho questo presentimento che è qui e che c'ho questo presentimento ecco ecco si chi è ok perché c'ho questo c'è un brutto presentimento che non c'è 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 ma se prima ero dall'altra parte se prima ero dall'altra parte mi cazzo non è arrivato qui ci mancherai molto anche voi mi mancherete e questa valita degli cellini migratori adesso devo andare grazie a dio è chiusa grazie a dio ma vi spiegate perché c'è perché ci allora perché allora se c'è un una scrivania lì perché poi c'è un cancello con una porta che si dovrebbe aprire no ragazzi no c'ho un brutto presentimento brutto è bello che io sto aprendo roba a caso da quando ne so noi dovremmo tipo cercare di di andarcene da qui perché noi siamo i poliziotti però quello che mi sto ancora chiedendo cosa era successo quando abbiamo attivato la corrente e quel tizio lì ci ha mangiati ma ero un sogno cosa cazzo era quello che sei andato perfetto sì però adesso devo aspettare un attimo perché c'ho pure tablet scarico a fangulo sono la merda io sto cercando qualcosa ma non c'entrò niente ciambelle sono mer simson io vieno 285 porca troia sembra una prigione questa dove cazzo sia o no si o no cadi quella puttana che cazzo è questo mi condosco per trovare un amico coniglio piero quindi sei asciutto dal palco ok 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 e nei condotti ma il condotto è aperto e prima stava ma era diverso ma ti prego no allora ti prego non dirmi che sono due ti prego non dirmi che nemici sono due che mo lancio qualcosa ragazzi 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 a meno un salvataggio che sto girando come un deficiente a casa una mezz'ora ragazzi 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 rag sono due porca troia perché se ora è passato uno allora questo qui è un altro sono due porca puttana vaffanculo